Attesa per la trentunesima edizione della Traversata Angera Arona. L'appuntamento, organizzato dalla Proloco di Arona, è previsto per domenica 1 settembre, e proporrà come di consueto la 2,4 km agonistica e la gara di 1,2 km non agonistica. All'agonistica sono iscritti in 204. Il ritrovo dei partecipanti e il ritiro pacchi gara è previsto per le ore 8 presso la biglietteria. Festa del Boden! In piazza Bianchetti a Ornavasso, tutte le sere cucina e cocktail bar, da giovedì a lunedì 9 settembre.